Salve a tutti! Oggi con questo video voglio inaugurare la sezione esperimenti del canale, dedicata a tutti quegli argomenti che suscitano una certa curiosità ma che poi non sempre ritrovano un'applicazione nella pratica. Oppure a tutte quelle domande che ci poniamo quotidianamente ma che non sempre hanno una risposta immediata, come nel caso del video di oggi. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta. In pratica quello che mi sono chiesto è come si comporta un induttore in presenza di un campo magnetico. Ma partiamo dall'inizio. Quello che sappiamo è che un induttore ideale quando viene percorso da corrente produce un campo magnetico e più questa corrente è elevata in verso negativo o in verso positivo e più questo campo magnetico aumenta. Ovviamente essendo nel caso ideale il valore del campo magnetico può raggiungere valori che vanno da infinito a meno infinito. Mentre quando abbiamo a che fare con un induttore reale quello che succede è che quando viene percorso da una certa corrente il campo magnetico aumenta ma fino a due valori limite ovvero quello di saturazione superiore e quello di saturazione inferiore. Quindi quello che succede è che il materiale di cui è composto l'induttore arriva a saturazione e quindi oltre un certo valore di corrente sia in verso positivo che negativo il campo magnetico aumenta molto molto lentamente e la derivata di questo aumento è pari proprio alla stessa derivata che si otterrebbe con un induttore avvolto in aria quindi senza nucleo. Quindi partendo da questo comportamento andiamo a vedere l'esperimento che voglio realizzare. Supponiamo di prendere un induttore in cui scorre una corrente variabile nel tempo con questo andamento quindi valori sempre positivi e con corrente massima pari a I1 inferiore al valore di corrente di saturazione. Quindi quello che succede nel grafico BI è che il campo magnetico varierà fra 0 e un valore B1 al variare della corrente fra 0 e il valore I1 quindi percorrerà questa retta in modo continuo e all'infinito. Ora invece andiamo a supporre un secondo caso ovvero supponiamo di avvicinare un magnete al nucleo dell'induttore ma con un campo magnetico opposto rispetto a quello generato dal verso della corrente che scorre nell'induttore stesso e supponiamo sempre che questo sia il comportamento della corrente nell'induttore quindi con valori sempre positivi e variabili nel tempo fino a un massimo che questa volta corrisponde a I2. Dove I2 è quel valore di corrente che dà un campo magnetico uguale al caso precedente quindi pari a B1. Quindi possiamo vedere dal grafico che quando il valore della corrente è pari a I2 otteniamo un valore del campo magnetico pari a B1. Mentre quando il valore della corrente è pari a 0 otteniamo un valore negativo del campo magnetico pari proprio al campo magnetico della calamita che siamo andati a inserire vicino all'induttore. E quindi quello che abbiamo ottenuto andando a avvicinare appunto questa calamita all'induttore è quello di ottenere un offset negativo di questa retta. E questo ovviamente potrebbe essere un ottimo risultato perché supponiamo che B1 sia proprio uguale a B di saturazione. Quello che succede è che senza la presenza della calamita per raggiungere B di saturazione basta raggiungere il valore di corrente I1. Mentre con la presenza della calamita ma in verso opposto al campo magnetico prodotto dall'induttore per raggiungere B di saturazione bisogna raggiungere una corrente più alta di valore I2. E questo ovviamente sarebbe un grande vantaggio soprattutto in quegli induttori che lavorano solo in un verso come ad esempio i back oppure i boost in quanto consentirebbe a questi induttori di lavorare con correnti più alte senza raggiungere la soglia di saturazione. Ovviamente nella situazione opposta se noi andassimo a mettere una calamita nello stesso verso del campo magnetico dell'induttore quello che otteniamo è che questa retta sdrasla verso l'alto quindi la corrente massima che può passare nell'induttore senza saturarlo va a diminuire. Ovviamente tutto il discorso che abbiamo fatto finora è una supposizione che si basa su un ragionamento logico in quanto ho provato a cercare online ma non esce nulla su questo argomento quindi quello che voglio fare è adesso andare ad effettuare un esperimento in modo da verificare se le cose effettivamente stanno così oppure no. Quindi quello che farò sarà di prendere un induttore portarlo fino a una corrente limite di saturazione e poi provare ad avvicinare un magnete e vedere quello che succede. Quindi adesso vado a prendere lo strumento di test degli induttori e vado ad effettuare questo esperimento. Ho preparato lo strumento per il test quindi l'induttore sarà questo qui che andremo a testare e con questa calamita andremo a verificare cosa succede quando viene avvicinata in verso positivo o negativo al campo magnetico generato dall'induttore. Quindi attraverso la lettura dello shunt di corrente sull'oscilloscopio ci renderemo conto di questa variazione. Sto alimentando il circuito e ho portato l'induttore già in saturazione. Infatti come si può vedere dalla forma d'onda azzurra abbiamo che fin qui è lineare dopodiché da questo punto in poi si ha un'evidente saturazione. Quindi adesso provo ad avvicinare la calamita e vediamo che cosa succede. Ecco qui. Funziona. Quindi ho preso il verso giusto della calamita quindi opposto a quello del campo magnetico e funziona. Non è più in saturazione quando l'avvicino. Mentre se provo ad avvicinarmi in verso opposto quindi girando la calamita si la saturazione aumenta si vede. Quindi il ragionamento che abbiamo fatto risulta essere corretto. Molto bene. Quindi come abbiamo potuto vedere i risultati dell'esperimento sembrano confermare tutto il ragionamento che abbiamo fatto finora e quindi questa azione di avvicinare una calamita a un induttore sembra essere vantaggiosa quando abbiamo un induttore in cui il verso della corrente scorre sempre in un verso. Ora non so se nella pratica viene utilizzato questo metodo ma di sicuro da un vantaggio. Poi bisogna vedere se effettivamente conviene di più in termini di costo mettere una calamita su un induttore oppure se semplicemente fare un induttore migliore. Oppure se nell'utilizzare questo metodo ci sono dei problemi che magari in questo esperimento non si sono evidenziati. Comunque per quanto riguarda il concetto risulta essere giusto. Quindi l'esperimento si conclude qui. Un saluto e alla prossima!